Grazie Presidente, saluto il Presidente Biondi di Indire, mi sembra perfetto il timing di questo incontro visto che abbiamo appena votato il PNRR e io da lì volevo partire Presidente, pagina 184-185 la versione che ormai tutti abbiamo, per farle alcune domande rispetto alla dimensione di riforma collegata a questo investimento importante, un miliardo e mezzo che sembra confermato. Allora, la prima questione è nelle slide che lei ci ha presentato non si fa riferimento ad un modello ITS, nel PNRR che non è proprio un documento secondario si parla esplicitamente di un modello Emilia-Romagna, quindi volevo capire se su questo è l'unico modello, ce ne sono altri, quali sono le caratteristiche peculiari del modello Emilia-Romagna o di altri modelli che lei ci suggerisce di guardare in vista di questo progetto di riforma che dobbiamo fare. Collegata a questo la seconda domanda, in realtà più che una domanda è un commento che faccio anche a chiosa di quello che ha detto il collega Toccafondi, perché se leggo bene qui c'è scritto che l'obiettivo è conseguire rispetto a un momento degli attuali iscritti ai percorsi ITS almeno il cento per cento, quindi ha molto ragione il collega Toccafondi Toccafondi a sollevare il punto quando dice che non basta quadruplicare le risorse per avere la quadruplicazione del numero di iscritti e di iscritti che completano il percorso e così via e quindi su questo aspetto anche io vorrei tornare quali sono i punti che secondo lei devono essere a complemento insieme alla governance, insieme a la ristrutturazione delle filiere, il ruolo delle imprese che ci ha evidenziato a più ampio raggio. Collegato a questo c'è un punto molto specifico che è il penultimo punto che volevo sollevarle Presidente, sempre a pagina 184 di questo rapporto del PNRR c'è scritto che ovviamente per lavorare sugli ITS si parla di sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso e qualifiche professionali. Non faccio in tempo a cambiare pagina 185, riforma 1.4, riforma del sistema di orientamento e si parla di realizzare una piattaforma digitale di orientamento relativa all'offerta formativa terziaria e degli ITS. Allora vorrei capire sulla base della sua lunga esperienza che consiglio darebbe o che suggerimento darebbe o che caveat darebbe in un paese che soprattutto in un ministero che conosco particolarmente bene fa un po' fatica storicamente con le piattaforme digitali soprattutto quando sono nazionali e qui mi pare che ci sia un po' una superfettazione di piattaforme digitali nazionali e quindi se e come devono essere integrate e come dovrebbero essere gestite. Ultimissimo punto e chiudo Presidente Casa sul tema che lei ha sollevato rispetto alla governance regionale anche altri colleghi ci sono tornati. Qui è evidente che noi ci stiamo orientando almeno parlo per me ma mi sembra che sia un sentore comune tra i colleghi poi vedremo che cose riusciremo a produrre fino in fondo sul fatto che sia indecoroso per un paese civile che ci siano delle strutture che si sono appropriate di un nome che non erogano corsi ma continuano a prendere risorse e che fanno statistica come diceva Presidente allora se noi mettiamo un miliardo e mezzo è fondamentale che ci sia un sistema di monitoraggio di valutazione serio. Allora c'è una cosa nelle slide Presidente che lei non ci ha messo su indire e cioè qual è il ruolo di indire che lei vede rispetto a questo. Oggi mi sembra però mi corregga se ovviamente ho frainteso sia un ruolo di monitoraggio di recupero dei dati di verifica di quello che sta succedendo. Nel momento in cui andiamo verso un sistema riformato dove ci sono tante più risorse una governance da gestire spero una valutazione e delle conseguenze della valutazione che verrà fatto di questi TS se lei si immagina in termini di coordinamento soprattutto se ribilanciamo un po' tra il regionale e il nazionale e anche sulla dimensione della valutazione e non solo della raccolta dati se indire o da altre istituzioni e organizzazioni possano e debbano svolgere un ruolo. Grazie. Io sono totalmente d'accordo bisogna avere una governance bilanciata tra il livello regionale e il livello nazionale e come diceva l'onorevole Fusacchia bisogna che ci sia una valutazione. Ora noi in realtà facciamo un ranking perché quello che avete visto è diciamo non solo una raccolta di dati ma anche l'applicazione di criteri di valutazione a quei dati. Il problema è che questa valutazione non ha alcun effetto questo è il problema cioè noi alle regioni i dati glieli offriamo gli facciamo vedere che ci sono degli TS che sono stabilmente in zona rossa però poi non è che questo comporta diciamo un intervento comporti automaticamente che ci sia come posso dire si dia del tempo agli TS per mettersi in regola e poi lo chiudiamo. Ecco i nostri noi il ranking lo presentiamo tutti gli anni lo presentiamo alla offerenza stato regioni ma gli effetti praticamente sono lasciati all'iniziativa o meno di ciascuna regione. Sul modello emiliano io non mi pronuncio perché non mi pare che in questo momento ci sia un modello emiliano un po' probabilmente mi sbaglio ma mi sembra che ci siano delle TS dell'Emilia Romagna a parte che sono nati con un certo ritardo rispetto agli altri ma non hanno diciamo un modello particolare. Poi se proprio volete guardare a un modello io vi consiglierei di guardare all'Umbria se proprio devo darvi il mio parere o alla Puglia cioè gli TS sono in cima al ranking sono in cima alla classifica e probabilmente qualcosa da imparare. Cioè non è un caso che in Umbria ci sia un solo TS che faccia una molteplicità di corsi che abbia un laboratorio di assoluta vanguardia e che quindi è un elemento che può diciamo offrire delle condizioni di successo e che forse potrebbe essere studiato.